Se decidi di preparare un elesir da bere, allora non purificare il tuo cristallo nell'acqua e non utilizzare olio essenziale o erbe che non puoi ingerire. Ad ogni modo non dovrai ingerire la soluzione. Fai bollire dell'acqua e posizioni il quarzo nell'acqua per pochi minuti. Estrai il cristallo e lascialo asciugare all'aria aperta. Aggiungi il cristallo nell'acqua e segui i passaggi per creare l'elisir. Dovresti utilizzare dell'acqua del rubinetto o altri tipi di acqua potabile. Posiziona il contenitore con il cristallo alla luce del sole o della luna per un massimo di 12 ore. Versa l'elisir in una brocca o in un bicchiere. Alcune persone utilizzano quest'elisir per fare i gargarismi, mentre altre lo utilizzano per detergere il corpo. Utilizza l'elisir nell'immediato. Può conservarsi in frigorifero per un massimo di un paio di giorni. Oppure il cristallo nell'acqua per una nuova per un mustà volendo. Grazie.